Io credo che c'è bisogno di un grande rinnovamento della politica e a mio avviso il civismo rappresenta, a mio avviso, il futuro. Quindi si possono anche partiti, diversi partiti potrebbero anche spogliarsi dalla loro compagine partitica e andare verso un civismo. Il civismo potrebbe dare tante risposte ai cittadini e credo che quello sia il futuro e proiettarci verso quel futuro. Io sicuramente rimarrò nella mia compagine civica, una coalizione civica e siamo pronti a sostenere e avanzare le proposte per migliorare le sorti della nostra collettività e poi mi auguro che ci sia anche da parte di altri magari quel pizzico di umiltà che è mancata negli anni.